il risparmio di più nel mangiare in questa puntata ignorante parliamo di matrimoni vengo sotto forma di casa da morto vengo qua casa da morto no no il suo spirito viene direttamente ma la tua matrimoni è presente tipo il film casper la con il fantasma vengo così si è fantasma formagino che ora magno e sporco partera quindi marco si sposa si sposa si sposa si sposa questo è sicuro come faccio ad essere il primo che si sposa che so le scelte no, le scelte lecce si va bene si va bene ma la nata c'è qui quindi è loco mio a lavorare ho tempo se ti capiate se ti capiate non c'è tempo quando ci scommettete che ragazzi che mi sa che è fermato dopo quando prende la dosa su cocazzo che dopo fai le registrazioni vegnato presso l'amorosa dio caro stasera c'era un centralino casa mia porcos cani a fare l'accoppiamento con il palco 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 marco mi sa che tu adesso finisci proprio i primi dodì no ma mi non mi accade c'è io mi notti si si ti capi una mi sa che mi metto scrivere ciao così prima mi ha piccato quindi aspetti che che altre ti scrive a te si ma mi non mi risponde quindi si no poi appena scrive ciao tesoro così in chat ti vedi lei che inizia a saltare per tutta la pubblica vedi due strisce due strisce nere sull'asfalto da casa sua figlia no ragazzi ti vede Apollo che vola la tua San Marco no tesoro guarda c'è una voglia c'è una voglia strana ma tesoro ma posso inizio con l'ape ma sto lavorando beh ma fa caldo dai poi io mando che sta reggisendo il mutante e vedi che la parte la parte è 125 e che fa i 150 così ah no vedi che prende il muletto da lavorare e arriva finire l'amoroso con muletto ahahah così la tira a studio caro ahahah a mo ci vogliate fare sesso ma io posso lavorare vedete tutto boom che cazzo che cazzo nella parte so e si fa tutta quella tutta la rotonda in drift tutte le strade in sgombata tutto arriva con i cerchioni c'è la battiglia di polizia che lo vuole fermare e ti vedi che povero come ha fatto a passare la macchina qua sotto ragazzi io vi dico solo una cosa c'ho un amico che diceva eh tanto prima beh tanto vuoi sposarmi voi poi infatti è stato il primo lui che dice che diceva così infatti ma chi è quel mone che ha buttato la macchina qua sotto ecco quindi marco ho capito ma come ho fatto no 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 si 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 ma come oh ma ti ho poi come ha fatto a mettere la macchina dentro marcia senza i sapi l'altro che mette la retromarcia invece di andare avanti che va in drio e fai buce non so il delirio di marco quando hai un cazzo da dire l'altro ragazzi tu sai che mi manda foto dei gattini l'altro ragazzi tu sai che mi manda foto dei gattini tu sai che mi manda foto del feo e se inonda che ha toccato ora la pompa d'immersione dopo che ti dico guarda che c'è offerta taglia cibi cilindrico ehm millecento cg e niente io non mi ascolta niente si che cazzo è una moto di poche e poi compra rastreo e la macchina quella che aspira c'è le foglie quella grande quelle ehm quella e lui l'è a posto lui l'è a posto però non mi ascolta e fa un investimento cinquecento mille euro e siamo a posto e cazzo è demono e dopo come serve a me per tagliare a scesa o la che ti domando se mi presta ehm boh taglia cibi bicilindrico devi via vinti metri al minuto cazzo è un po' ma quanto cazzo è tutto 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 e poi se no se non vuoi spendere la pompa d'immersione o una specie di idrogore a casa con acqua tre poici e motore benzina da 6,5 cavalli bric no si è bric in strato si è bric in strato l'accessione a trazione Marco che porta il motore del mevisin per dare acqua ma se devo fare una televenita per caso si se devo vendere che Apollo taglia i siepi ma non lo vuoi comprare aspetta un attimo manca questo è 90 litri non capisco che è conveniente per tagliare e che ho molto di più che cosa fai netto se che puoi prendere i rasoi per fare un gillette 10 lame super affidate facciamo 1000 lame che è meglio ma tu hai la trinta fa e tu fai prima qua bisogna andare su robe professionali trincesi taglia siepi del stile bicilindrico no 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 un sguardo non credo che male non farebbe Marco e dopo il tuo TR TLC col bracetto fatta giraffa e giraffa Marco fa una roba aspetta ho tipo mi viene in giro ma non che fa beh dopo tiriamo in giro sepposasso a pedano oh sento cosa e ti diciamo e ti diciamo a barra da treno dovrei essere inserito su server ascolta fa una roba e e e spingami davanti si ce l'abbiamo ce l'abbiamo barra da treno ce l'abbiamo non sto comprando aspetta edo però spingami no tira via tutto perchè è roba giusta si dai segui a fare e no aspetta facciamo una roba più tu in un altro camion in un altro rimorchio facciamo una roba più no qui si attaccai a barra da treno devo dire si hai fatto un tirotto via il camion e si dopo così dobbiamo verso le rampe e aspettiamola tipo si attaccai la macchina monsterina ti ha portato il passo anzi c'è me c'è me un monsterina monsterina mio non è male eh no che sei trattori casa ti butti via tutti si si facciamo qui oh fai 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 ch metals fai 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 not fai vive a 20 ma se puoi trovare un rimorco più grande che la rampa che tocca a terra? no vabbè, devo fare un po' di scena via guarda il rimorco è già sfondato vai drissa sta fermo vogliamo oh, è stato fuori in corsa fuori in coglioni sta fermo la faccio adesso che vedo toni in giù fa la galleria che altra parte beh tanto sì che 40 l'ora non fa no 30 si, vuoi tu mi perchè ti muoce a te? hai detto va a spingere, va a spingere da toni tu drio fai le tue marce boom boom che te deve finire dentro in cabina prima gli erano da su ben demonio musso orco ti metti già tu sai che posa dritto e gli erano da su perfetto si ma già vedi rose del tetra che si è meglio di disfai vai 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 resta la cucita che mi esce non la botta si parla no no fermo fermo perchè se devo trovarti è rimorchio sarai i rampi, sarai i rampi fa tipo una foca però sarai i rampi, però sarai i rampi aspetta boom 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 ora 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 posso ho questa idea norma di legge ehi sei ero di quattro non mi affanare non mi affanare va via è 9.3 euro abbaena si abbaera abba abbaera abba si ma parla abbaena il camion come c'è manca che ero di quattro pia che ti passo per la cassa pia boom dai ai c'è va mio consiglio butta 10 litri di mesina entro gasolio edo vai a tua postazione qua bene edo quasi alla come vuoi anche il cipato a te potevi tornare edo stiamo facendo schizzermane marco questa gara la gara adesso che brutta cicciona infame sboldra per forti sempre per forti il tonico il romano con i porti dei comando ora mi lascio subito trippiare dotate e se trippiare un minuto così e dopo parte la suoneria tattica tvd si pronto e via che se li mi ha lasciato aiutato il segno nante cos'è che te vuoi la danza dei streghi? si qui a ve da veri ponte si che mi parei a ritmo quasi uguale a quei un sottoprima se non mi ricordi che ho tirato il charlie a 66 all'ora no il charlie a danza dei lui insomma sbagliava a 120 bpm cazzo in c***o di giù oh gabri ponte scusate il massimo di voi sta pari a pari ma si toglie guai che son mano ma si toglie ma si toglie ma si toglie non sta pari a signora è solo per immondarsi mi fai stupri la macchinina di monsterina? Marco ma forse con uno che ho cacchino e che serve già ti chiedo male cosa? quello che ti sei già hai sentito seguire le linee abbiamo altri campi da erpicare il campo 5 non è neanche di seminare fai culo temo anche 13 di direzioni cosa che ti fa a fare con questa serie? fa anche 13 eh no questo mi fa un cazzo beh adesso usare una scantata e big bad fa un po' di insillate qua e la e dopo viene di a big bad che spinge come sei che tenata in ferie? mi stanno un po' in ferie se lo casa? e con questo abbiamo concluso grazie dell'attenzione e arrivederci e l'attenzione 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 e l'